Sì, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Oggi approfondiamo il tema del dislocamento dei depositi costieri da Genova a Multedo. A Ponte Somalia, anche questo filone entrato in un'inchiesta della magistratura, si ipotizzano possibili pressioni nell'ambito del Comitato Tecnico Regionale per modificare parere che prima era negativo e poi diventato positivo per il dislocamento e dall'altra parte c'è il TAR che ha messo in discussione, quindi ha bocciato la procedura di adeguamento tecnico funzionale promossa dall'autorità portuale dicendo che era necessario una modifica al piano regolatore portuale. Questa è la mia sintesi ma intanto saluto i miei ospiti partendo da Giampiero Cellerino, storico rappresentante del Comitato Multedo per l'Ambiente, Goffredo Feretti che nel Presidente, alcuni residenti della zona Cellerino, le dicevo prima di questa intervista che io immaginavo come titolo di questo servizio Multedo sotto shock, cosa mi dice? Dico che non è shock perché come giustamente aveva detto lei la sentenza del TAR ha bocciato l'utilizzo dell'adeguamento tecnico funzionale come strumento decisionale ed esecutivo, addirittura io ho letto la sentenza, nelle prime righe dice anche che si suggerisce l'uso di un altro strumento che è la valutazione di impatto ambientale eseguita dal Ministero e noi non siamo per niente preoccupati da questa situazione che non rappresenta nessun tipo di ritardo perché questa valutazione di impatto ambientale è incominciata lo scorso, i primissimi giorni di gennaio di quest'anno quindi è già una procedura avviata del quale noi ci auguriamo presto la conclusione. Presto è un termine forse che deve essere accompagnato da preoccupazione su questi termini perché sappiamo che la Commissione che deve dare il parere è rinnovo, non sappiamo se dimensionare, abbiamo scritto proprio al Ministro dell'Ambiente per sapere se sarà ancora in carica per gli affari correnti, cioè loro hanno incominciato, la devono portare a termine, se invece debbono è vero aspettare la nomina della nuova Commissione. Per fare questo abbiamo anche mosso alcune persone a livello di rappresentanza parlamentare di andare ad accertare quali sono i tempi per il rinnovo di questo. Quindi un po' di ritardo ci potrà essere e questo un po' vi preoccupa per la questione tecnica del rinnovo della Commissione via ma non sul merito? No, non sul merito anche per diverse ragioni. Prima di tutto lei parlava di pressioni fatte sul... Presunte. Presunte, ecco presunte pressioni. Io dico un manager cioè colui che deve decidere l'esecuzione ha come compito importante fare pressione perché questo succeda. Un conto è fare una pressione di tipo istituzionale, un conto è di fare una pressione con corruzione ma questo se ne occuperà la giustizia ma non credo che stiamo parlando di ambiti di questo genere. Un altro aspetto è questo. Mi diceva se c'è preoccupazione per l'esito. Io ricordo che qualcosa come, stavo dicendo 30 anni, diciamo meglio per essere più precisi, 29 anni e cinque mesi or sono, il Ministero dell'Ambiente promulga adeguamente una valutazione di impatto ambientale relativa a un progetto. Questo progetto andava sotto il nome di Tanchimica e la localizzazione era molto più vicina alle case di quanto sia quella di Ponte Somalia e i depositi autorizzati in quell'epoca erano per 138 mila metri cubi, mentre invece la valutazione di impatto ambientale in questo momento è stata chiesta per 94 mila. Quindi se 30 anni fa andava bene questa cosa, adesso perché non va bene? Lei mi può anche chiedere ma come mai non è andata in porto? Lo sappiamo benissimo il perché non è andata in porto. Purtroppo a Multedo ci sono non più di 3 mila persone e hanno un peso, una valutazione dal punto di vista di peso politico molto molto più piccolo di quelli di una San Pier d'Arena o di un San Teodoro che era interessata a quel momento. Quindi noi non ci vogliamo essere, non vogliamo essere trattati come l'agnello sacrificale, tanto sono pochi se lo tengano. Ecco anche lei non è preoccupata oppure un po' si vede sfumare questo trasferimento. Penso come mio marito, ecco. Assolutamente no, ci saranno sicuramente dei ritardi ma ciò non mi inficcia la soluzione che ci aspettiamo. Io sono molto ammareggiato perché da cittadino vedo sempre un continuo dilazionare i tempi e quindi intanto i depositi rimangono lì, noi abbiamo tutti i disagi che ne conseguono, ci sono anche rallentamenti nella soluzione del nodo autostradale a causa del mantenimento della posizione di Carmagnani in quel posto e poi ritengo che la decisione di Ponte Somalia sia una decisione molto razionale perché prevede lo spostamento di depositi da un quartiere residenziale ad un ambito industriale e quindi non riesco a capire. Tra l'altro vicino ci sono degli altri depositi chimici da sempre e niente. Non c'è una lotta tra quartieri? Ma no. Beh, non dovrebbe essere una lotta tra quartieri ma ci dovrebbe essere una certa razionalità nel capire che i depositi chimici sono proprio adesso in mezzo alle case da più di 30 anni e hanno causato non poco problemi e una dislocazione in un'area che non è vicina alle case sarebbe la soluzione migliore. Bene, per ora vi ringrazio. Posso aggiungere ancora una cosa velocissima. È stato letto che noi a Multedo vogliamo spostare il problema a casa di altri, questo non è assolutamente vero. Noi abbiamo fatto tutte le valutazioni che danno luogo a una valutazione di sicurezza molto ben precisa. In quella zona, come abbiamo avuto anche occasione di pubblicare in sedi parlamentari, non c'è assolutamente un benché minimo rischio di pericolo, però c'è il rischio che la politica cavalchi i numeri elevati degli abitanti per ottenerne il consenso e falsare quindi queste interpretazioni. Per onore di cronaca diciamo che il sindaco di Genova, Marco Bucci, il giorno prima che si sapesse della inchiesta sui depositi, parlando dei ricorsi al Tar, comunque delle decisioni del Tar, ha paventato il rischio di un ritardo perché bisogna rifare la procedura, così ha detto il sindaco. Gli lasciamo le parole, lo dico per ricordarlo, ma resta sull'ipotesi di Ponte Somalia fino a quando qualcuno non proporrà qualcosa di alternativo come oggi non è mai arrivato. Linea allo studio.